E ciao ragazzuoli, benvenuti e ben ritornati qui nel mio canale, io come al solito sono Rick, continuiamo con Max The Course of Radov e la nostra rubrica GG Giochi gratis Ok, continuiamo con il nostro pennarello magico E vabbè che io penso che comunque Ok Ok, abbiamo preso qualcosa, infatti l'amuletto l'abbiamo preso Cancelliamo qua E cavolo, cos'è? Non pensavo fosse un nemico E ovviamente ci sono morto come un pivello, ma vabbè ragazzi non stiamo neanche qui a guardare bene E qui scusatelo, non ci si può arrivare no, evidentemente no Oh Ok Spingiamo il masso qui, adesso ci saltiamo sopra in modo tale da poter arrivare oltre Oh cacchio Non ti posso cancellare? Oh 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 Eccolo lì Ciao ciccio Stammi male eh, non stammi bene perché sei proprio brutto Ok Ok Sprappiamo un altro occhio Che non è proprio bello, ho detto così No insomma Dai salici su Eh vieni qua Eh ciao ciccio, che a te Via 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 no Eh vabbè ma dai Ok Cioè accelerato Che non ho capito cosa sono, se sono rane Boh Vabbè Vabbè tanto stoppiamo anche questo La musica è finita Gli obiettivi vengono sbloccati Come noccioline Che poi non so, cioè Perché non lo so Sì ok lo so Sì ok lo so Salgo su una, salgo su l'altra un po' più alta Forse così è un po' troppo alta Cancello quell'altra La rifaccio Più alta Cancello ancora questa La rifaccio più alta Cacchio L'ho fatta un po' troppo alta È un po' Noioso Però funziona No Sono morto come un ebete Bene Tra l'altro In un punto dove Sinceramente Non volevo proprio morire Perché Eh come potete vedere Bisogna davvero Rompersi un po' le scatole Per continuare Cancellare e rifare Cancellare e rifare Cancellare e rifare Ma non ho dubbi che morirò ancora Tra l'altro C'è il pennarello Vedete Ha un massimo di Capacità di allungare le cose Me ne sono accorto adesso Vabbè abbiamo superato anche questa parte Questo capitolo Capitolo 1 di 4 adesso Canyon pietra nera Microsoft l'ha tenuto Ha tenuto questo gioco Anche il mese Questo mese Il mese scorso Gli utenti si sono un po' lamentati Si vede che però Il gioco è valido Perché Insomma Tenerlo due mesi Vuol dire comunque che Ecco c'è l'occhio qua E effettivamente il gioco è valido Comunque Sto constatando Ok si Si sono stato un pirla Perché potevo farlo anche prima Ragazzi Così Nei due pilastri Potevo mettermi ci sopra Vabbè ci ho pensato adesso Sono un pirla Ok Potevo mettermi ci sopra E fare Tac Fino alla fine E poi alzarlo E motare Da farlo molto velocemente Vabbè Ok Ecco Ecco Lo sapevo io Ma grazie Ma guardate questa qui cosa ha fatto Ok Ok Ah no Dai Ma non puoi far così Voglio vedere che cosa c'era D'altra parte Questa è l'ora di esso Questa è l'ora di esso Rendetevi utili Bene Ok Ok Via dai Dai che ho bisogno di voi anche qua Io ho la straordinaria capacità Di prendere sempre I vicoli sbagliati Cioè adesso c'era Come avete visto Oh L'opzione Il bivio Fra una parte e l'altra E ovviamente sono andato Dalla parte che Non mi avrebbe dato Non mi avrebbe permesso Di prendere il bonus Sì Now what Uh lady Sol Say something Oh Cacchio Non dovevo cancellarlo così tanto Ok Ci sono ci sono ragazzi Scusate Ebbene Perché non funziona più E dai Adesso però Non puoi far così No Non ci posso credere C'è Ok Ok Bullseye Si effettivamente Non avete So che molti di voi L'avranno pensato Non mi avete tutti i torti Aspetta un attimo Io voglio andare di qua Ok A momenti me lo perdevo Ma questo era ben nascosto O almeno Alla mia Alla mia vista Non mi ispira molto Oh vabbè Io spero che qua sotto Non ci sia niente Perché non ho l'intenzione Di saltare giù Alla cieca Ok Ok Devo arrivare lì Ok Ok faccio salire questo Di qua non si può Quindi Ok Lo cancello Lo piazzo qui Dai vai Dai vai Vediamo Speriamo che la lumaca Non ci faccia aspettare troppo Vista la sua fama Ma questa qua È un po' Più veloce Oltre che essere abbastanza Ma che tra l'altro Aspettate un secondo C'è Pensavate che non l'avessi visto E invece no Ok via Ciao ragazzi Ok Ok di qua non ci va Nessuna parte Se andiamo qua E allora Ma scusate Eh sì Mi sa che allora Anche prima Ce n'erano Un po' sotto Mi sa di sì Eh sì Credo proprio Di essermi di Eh sì 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 Vabbè Anche qui l'abbiamo Scampata Seppur per poco Saltiamo giù Ok 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 Ah sì Ok Sì sì Ok Sono un cretino Lo so Allora Prima mettiamo questa No 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 Ok Allora Eh devo abituarmi ragazzi A non Mollare Oh 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 carina anche questa parte qui ragazzi ed è un gioco anche di sceltamento impegnativo nonostante possa non sembrarlo a vederlo ma vi assicuro che non è così semplice e siamo al quinto cioè la parte quinta del primo capitolo capitolo 1 5 l'incrocio e con questo ragazzi io vi saluto perché comunque il nostro tempo diciamo che è scaduto nel tempo a nostra disposizione mi sembra più che ok siamo anche caduti mi sembra più che consono la lunghezza di questo video vi ricordo di lasciare un mi piace o non mi piace a seconda del vostro livello di gradimento lasciatemi un commento sempre dicendomi che cosa ne pensate del video e del gameplay e del gioco e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzuoli